E infronte a me ci sono due scale, una che scende e una che sale Faccio una scelta per il mio futuro, perché alla fine salverò un tesoro E infronte a me c'è una reale minaccia, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua Ben trovati a una nuova puntata di Madre Terra, oggi ci occupiamo di clima, di tutela dell'ambiente Ma soprattutto di risparmio energetico Quali sono i piccoli gesti attraverso i quali ognuno di noi può aiutare il pianeta? Come possiamo ridurre i nostri consumi energetici? Risponderemo a queste e ad altre domande e vi guideremo attraverso un uso corretto dei riscaldamenti nelle vostre case Forse non tutti sanno che ad esempio buona parte dell'energia impiegata per riscaldare i vostri edifici Viene dispersa dalle strutture e dall'impianto termico stesso E allora proviamo a vedere come, grazie a quali accorgimenti, è possibile limitare la dispersione di energia Ci aiuterà a dissipare i nostri dubbi Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF Che da due anni conduce la campagna Generazione Clima Con Generazione Clima il WWF si prefigge di migliorare quanto è possibile le emissioni carboniose nell'atmosfera Per tutti i possibili condomini e abitazioni nel nostro paese E questo credo che sia un obiettivo che andrà entro il 2020 perseguito Ci sarà molto da lavorare, però credo che sia uno dei nostri obiettivi per cercare di migliorare la situazione dei cambiamenti climatici Per intervenire sugli impianti di scaldamento per risparmiare ci sono due o tre innanzitutto operazioni Prima cosa, coibentare le case, quanto è possibile evitare dispersione di calore con doppi vetri, con isolamenti termici adatti In secondo luogo, utilizzare impianti termici nella maniera migliore Per esempio, non tenendoli accesi quando non si è in casa, accendendoli solamente quando serve Per quanto riguarda gli impianti autonomi e anche per quanto riguarda gli impianti generali di condominio Cercare di far adottare sistemi di caldaie a condensazione che possono essere modulati secondo le esigenze del clima e del freddo Le temperature ottimali per la salute ma anche per il risparmio energetico sono I giorni in cui si lavora e si sta in casa 20 gradi, la legge poi lo impone Per la notte 18-17 gradi è la misura ottimale per avere un sonno tranquillo senza essere oppressi da un eccessivo calore Il parco caldaie in Italia è ancora purtroppo non adeguato alle esigenze climatiche Cioè ci sono ancora molte caldaie con bruciatori a carbone, a petrolio, a olio pesante E più fatto sarebbe quello di portarle tutte a metano, molto meno inquinante e anche forse meno costoso In secondo luogo, cercare dove possibile, negli edifici nuovi ma anche in quelli adattati o ristrutturati Di utilizzare i pannelli termici, solari che portano sia l'acqua calda nei nostri apparecchi sanitari Ma anche possono riscaldare gli ambienti Questo è molto importante anche in vista del risparmio energetico e del risparmio anche economico Per risparmiare e non inquinare ci sono dei sistemi anche domestici simpatici Come per esempio l'uso di legna, di pellets in piante di riscaldamento che vanno avanti con sostanze biodegradabili Gusci di nocciole, gusci di pinoli ed altro che possono dare buoni risultati in termini di riscaldamento Bassi costi e naturalmente nessun inquinamento in quanto è sostanza organica e carbonio Che viene a essere riciclato e ritorna in atmosfera e poi verrà recuperato dalle piante che hanno prodotto questi gusci E dopo l'intervento di Fulgo Pratesi andiamo a parlare con l'onorevole Pecoraro Scagno di riscaldamento Continuiamo allora Pratesi ci ha dato dei consigli su come riscaldare meglio casa Lei invece cosa ci può dire in più? Beh innanzitutto possiamo parlare di riscaldamento in senso lato Nel senso quanto contribuisce il riscaldamento delle nostre abitazioni al surriscaldamento globale del pianeta In realtà molte volte non c'è la percezione che per quanto riguarda l'influenza sul cambiamento climatico mondiale Un terzo di tutte le emissioni di CO2 viene prodotta da quello che in inglese si chiama housing Cioè dall'abitare Dentro l'abitare c'è molto il peso dei sistemi di riscaldamento e durante l'estate di raffreddamento delle nostre abitazioni È evidente che tutto quello che oggi si fa strada è quello della cosetta casa ecologica Cioè la bioedilizia per esempio I suggerimenti che da Fulco sono legati a questo Per esempio è importante che il proprio riscaldamento sia L'ideale sarebbe che visto che in molte zone noi abbiamo aree geotermiche Cioè che c'è un calore che viene da sottoterra Addirittura utilizzare la differenza di calore che c'è sottoterra per riscaldare le case è una cosa molto utile Ma poi ci sono tanti altri strumenti che permettono di avere delle caldaie ad alta efficienza Che permettono di avere degli infissi e un isolamento delle abitazioni che evitino la dispersione Ogni tanto avrete visto qualche foto, le cosette fototermiche Che fanno vedere per esempio come un edificio Che tu lo guardi normalmente con una fotografia è normale Se registri con gli infrarossi quanto emette calore Magari gran parte del calore che usiamo per riscaldare una casa Poi viene buttato all'esterno inutilmente Allora ci sono tanti strumenti Che permettono di risparmiare economicamente Perché tutto questo significa spendere meno in energia elettrica In spese del gas, in spese del gasolio E poi c'è il grande vantaggio di aiutare l'ambiente Perché riduciamo l'emissione di CO2 Quindi tutto questo sono suggerimenti di stili di vita privati Cioè sprecare meno Che permettono un guadagno nel portafoglio E un contributo migliore alla qualità della vita di tutti E Fulco, per te si ha parlato anche di pellet Questo sconosciuto, diciamo, non tutti ancora Ma sì, è praticamente un sistema che usa una cosa antica Il legno sostanzialmente Ovviamente a volte sono sistemi che prendono delle materie organiche Qual è il tema del legno e di tutte le biomasse? Cioè quando un albero cresce assorbe carbonio La nitrite carbonica, quindi assorbe CO2 Quando poi lo bruci per fare calore Emetti la stessa CO2 Quindi questi si chiamano investimenti a zero emissioni O quasi zero Perché in realtà tu il carbonio La nitrite carbonica che assorbi durante la crescita della pianta La rilasci dopo Quindi sono sistemi, anche questi Che usano le cosiddette biomasse Per riscaldare Bisogna avere sempre, come dire, grande cautela Perché comunque fanno delle emissioni Però sono utili da un punto di vista dell'equilibrio ambientale Grazie ancora per essere stato con noi Buon lavoro Grazie anche a voi Vi lascio all'appuntamento con Gianfranco Mascia E noi ci vediamo dopo Benvenuti alla consueta rubrica dei consigli web Un occhio al web Partiamo parlando del primo sito che è importante Perché è quello proprio del WWF Generazione Clima È il sito dove si spiega questa campagna del WWF Presentata dal presidente onorario Fulco Pratesi Proprio nell'intervista www.generazioneclima.wwf.it Il secondo sito che andiamo a visitare Parla di caldaia a condensazione E dove potevamo trovare una definizione Dei caldaia a condensazione Se non nel suo sito wikipedia.it Viene spiegato cosa sono E come funzionano E per quale motivi È utile utilizzarle Anche per oggi abbiamo finito A te la parola, Vittoria E all'appuntamento con il glossario di oggi Due nuovi termini Risanamento energetico Consiste nella riqualificazione energetica Degli edifici già esistenti Ed è mirato alla riduzione delle dispersioni termiche Mediante l'installazione di pannelli solari Per la produzione di acqua calda E l'installazione di caldaia a condensazione Caldaia a condensazione L'idea che sta alla base di questo tipo di caldaie È quella di utilizzare il calore contenuto nei fumi Grazie a tecniche Che consentono di trasmetterlo all'acqua riscaldandola Riescono ad ottenere rendimenti molto elevati E riduzioni delle emissioni di ossia e di azoto E monossio di carbonio Fino al 70% rispetto agli impianti tradizionali E quindi con il glossario io vi do di nuovo la rivederci alla prossima settimana Ma prima vi ricordo l'appuntamento con il testimonial di eccezione E abbiamo con noi Marcello Cirillo Noi ci vediamo la prossima settimana Arrivederci Abitando in campagna per riscaldarci Utilizziamo molto la legna, i cammini eccetera eccetera Certo quando fa molto freddo accendiamo anche noi i riscaldamenti Però abbiamo fatto un'operazione Nel senso che io credo che il riscaldamento serva Sì riscaldare casa Ma soprattutto approfittare di tutte quelle che sono le finestre, le porte eccetera eccetera Cercando di proteggere dall'intrusione del freddo Quindi più che creare calore E cercare di non fare entrare il freddo Abbiamo fatto questo e mi rendo conto che Oggi la casa è più calda E infatti a me ci sono due scale Una che scende, una che sale Faccio una scelta per il mio futuro Perché alla fine salverò un tesoro